Buongiorno a tutti, è arrivata? Vi ha consegnato i doni attraverso il comignolo della vostra casa, sono scese fino al camino le calze piene di carbone o di dolci, dolciumi, cioccolati, la Befana. Oggi è una giornata che per tante persone è uguale a ieri e tante persone non avranno un sostanziale cambiamento nella loro vita se non quella di, e soprattutto in questo periodo, di riuscire a dire beh, se arriviamo a sera vuol dire che ce l'avremmo fatta. Considerando che l'acqua non deve mai mancare e non sto parlando in codice, sto dicendo effettivamente quello che voglio significare. Perché parlo di questo? Perché ci sono tante persone che fanno fatica ad inserirsi in un contesto sociale, perché la società è spietata, la società è stratificata, ci sono i poveri che alcuni di loro hanno capito l'essenza della loro esistenza, per cui rimangono in povertà perché la povertà è la cosa vera. Perché un fuoco che ti riscalda e un po' di farina per accompagnare i tuoi ortaggi sono quello che ti permettono di mantenere la salute, di rimanere in vita e l'amore anche inteso come sentimento di relazioni sentimentali può fare da amalgamante due cuore e una capanna si dice. Ben presto i due cuore e una capanna si tramuteranno in litigi. Perché? Quella è l'essenza, quindi l'acqua pulita che arriva dal pozzo, sempre controllata perché anche l'acqua di sorgente può contenere dei germi, il pane che possiamo cuocere col fuoco, che è la legna che possiamo trovare nel bosco. E qualcuno potrà anche dire sì, ma tu stai descrivendo un mondo che non c'è. Bravo, hai colto proprio nel segno. Il mondo che non c'è, il mondo che invece dovrebbe esserci e che non c'è più. Ed è per questo che la società è sbandata. Io vedo le persone e la maggior parte di loro come quelle macchinine che si caricano a molla. Quindi tante macchinine che vengono caricate a molla o tanti soldatini caricati a molla o tanti oggetti meccanici che si muovono fino a quando hanno la carica. Poi vanno a casa, infilano il filo nella presa della corrente, si fanno una bella dormita e l'indomani sono pronti per girare in giro rutilanti, quindi sfavillanti e inconsapevoli del domani. Basta che ci sia la presa per potermi ricaricare. Purtroppo non è così. Anche se qualcuno lo pensa, anche se qualcuno lo fa, anche se qualcuno è inconsapevole del fatto che per permettere ad alcuni di continuare a fare la macchinina e dire tutte quelle cazzate che dicono e atteggiarsi in quel modo, ignorando che qualcun altro lavora per mantenere il loro status, beh, quello è proprio quella cosa che ci deve fare incazzare. E perché io stamattina proietto un fascio luminoso sull'inconsapevolezza dell'essere che potrebbe essere di prima mattina molto pesante perché richiede ragionamento, la gente non vuole ragionare, la gente vuole, punto, non vuole ragionare, la gente non capisce, non sa. Tanto che vi faccio un esempio non per demonizzare una categoria ma per farvi capire che c'è molta poca importanza per un operatore ecologico definito anche da tanto tempo lo spazzino. Che importanza volete che abbia? Lo spazzino al cospetto di un sindaco? Beh, la differenza che c'è tra lo spazzino e un sindaco è che il sindaco è un politico, quindi inutile. Lo spazzino invece è utile perché se non ci fosse lo spazzino la strada sarebbe sporca e voi camminereste nella strada sporca. Se non ci fosse il sindaco ci sarebbero stipendi meno da pagare e ci sarebbero meno potentati, quindi meno parassiti che continuerebbero e che continuano ad avere i favori delle marionette che stanno, non tutte, nelle amministrazioni comunali. Perché? Probabilmente lo spazzino e grazie al sindaco potrebbe bere l'acqua sporca perché il sindaco è amico di chi fornisce l'acqua.